amici nuova puntata di dolk vision edizione 2023 anche quest'anno come l'anno scorso parleremo di persone e personaggi quest'anno inizieremo col voto con un personaggio faccio la battutaccia lui ha fatto tanti anni di galera da innocente ma naturalmente solo una battuta diamo il benvenuto a giampaolo cassita buon pomeriggio come stiamo buon pomeriggio a te a tutti gli ascoltatori ma stiamo bene dopo tanta galera penso di avercela fatta insomma di essere sopravvissuto ai 39 anni allora per chi non lo sa tu sei un viso noto ma per chi non lo sa giampaolo cassita è un giornalista è uno scrittore e per tanti anni ha lavorato presso il carcere dell'asinara in sardegna giusto mi dico bene in quale ruolo educatore no come educatore sì sì una buona parte della mia vita professionale è stata all'asinara dal 1985 iniziato a tempio pausania nel carcere di tempio per due anni poi sono nato all'asinara fino alla chiusura dell'isola che è diventato parco naturale 2000 dal 98 sono poi ho fatto altri una decina d'anni ad alghero per poi andare a dirigere il dell'ufficio dei trasferimenti dei detenuti della sardegna negli adulti e gli ultimi otto anni li ho fatti ai minori ho fatto il direttore del centro giustizia minoria della sardegna di qualche altra regione quindi insomma non mi sono fatto mancare nulla raccontando degli anedoti particolari qual è la cosa che ti rimasta più in impressa in questi anni in questa questa storia che tu poi tra l'altro hai anche trascritto in qualche pagina di libro giusto sì beh ci sono addirittura i primi due libri che ho scritto sono dedicati un po al mio mestiere insomma c'è tutto quello che è accaduto in un'isola come l'asinara e anche l'ultimo in qualche maniera si collega che il decimo però è la storia di un fanalista che ha vissuto all'asinara e ci sono anche le storie dei detenuti che cosa mi ha colpito mi ha colpito che gli ultimi a volte rimangono ultimi e in carcere ci finiscono loro insomma nella band della maggioranza delle volte quindi questo va colpito e mi hanno colpito molto gli occhi tristi di chi aveva scritto sulla cartella fine pena mai cioè che aveva l'ergastolo e che non sarebbe mai uscito dal carcere che tipo di carattere ci vuole per sostenere una vita come quella all'interno di un di un posto come quello beh più che carattere secondo me ci vuole passione come tutti i lavori insomma io credo che tu ci metta molta passione in quello che fai e quindi la stessa passione la stessa voglia di fare qualcosa bisogna mettercela qua e con una con un'aggiunta in più perché bisogna sapere che ci vuole la grande capacità di ascoltare le persone cosa che ormai abbiamo perduto negli anni nessuno più in grado di voler ascoltare non abbia abbiamo sempre troppa fretta ecco mentre un lavoro come questo bisogna avere la capacità di ascoltare io devo dire che fin da piccolo ero molto curioso non a caso insomma poi sono diventato anche scrittore giornalista ma proprio perché avevo la capacità di ascoltare gli altri e già paolo come si svolgeva il tuo lavoro all'interno del carcere ma allora il lavoro di educatore che quello che ho fatto per una ventina d'anni è più o meno identico in tutte le gli istituti dell'italia insomma si tratta di ascoltare i detenuti di sentirli e perché il nostro mestiere serve poi a far sì che ci siano delle relazioni scriviamo delle relazioni nei loro confronti che vanno al magistrato il magistrato poi decide il loro piccolo futuro sia dentro il carcere ma soprattutto fuori ecco tutti molti di voi hanno sentito parlare di permessi premio liberazione anticipata semilibertà affidamento in prova al servizio sociale ecco il magistrato concede questi benefici in base a quello che noi io il direttore i puliziotti l'assistente sociale lo psicologo scrivono in questa grande relazione che poi serve appunto per scommettere su queste persone ovviamente non è semplice ovviamente tra le tante relazioni che abbiamo scritto non è che le abbiamo azzeccate tutte ecco questo ovviamente non è facile lavorare sugli uomini ecco questo indubbiamente l'asinara è un po più diverso perché nel senso era più diverso perché i detenuti erano liberi stavano in mezzo al campo lavoravano nei campi lavoravano come pastori quindi molte volte dovevi addirittura inseguirli andare negli ovili per fare i colloqui con loro cosa che in carcere normale questo non accade quali sono i personaggi più ostici che hai dovuto combattere all'interno della struttura allora credevo che facessi la domanda invece che quali sono i personaggi più famosi perché tutti che cadono in questa trappola io la mia risposta è sempre non ci sono personaggi famosi nel senso che totorina culto eccetera che ho conosciuto forse sono quelli che mi hanno creato meno empatia nel senso che non erano simpatici ma soprattutto non avevano neanche voglia né di parlare né di essere ascoltati quindi erano persone che andavano per la loro strada le persone ostiche sono quelle che hanno un impatto col carcere molto duro che non accettano inizialmente è comprensibile quindi quando io trovavo queste persone dicevo su queste ci posso lavorare io ricordo appunto un detenuto che aveva arrivato dalla sinara che aveva spaccato tutto in puglia aveva girato 89 carceri spaccava tutto arriva la sinara dice anche io qui spacco tutto eccetera e gli dici ma tu che lavoro facevi fuori oltre che spaccare tutto io facevo il gommista ma se ti mettiamo in officina ad aggiustare le gomme tu saresti bravo secondo me non ne sei capace quindi scatta questo meccanismo di volermi dimostrare invece che la provocazione una provocazione lo mettiamo a lavorare non ha mai spaccato nulla ed è andato in affidamento in prova è diventato un detenuto tranquillo aveva solo bisogno appunto di di essere ascoltato di di essere considerato una persona ecco una delle cose che il detenuto vuole quello di essere considerata la restituzione della dignità che il carcere la toglie ecco e questo è un errore gravissimo come mai ti è venuto in mente di scrivere poi di mettere su cartaceo tutta questa esperienza tutta questa storia ma ti ripeto io da ragazzino in realtà veramente da piccolo volevo fare il giornalista quindi era una mia un mio sogno nel cassetto poi per tutta una serie di vicissitudini andare a urbino costava un sacco di soldi per la scuola di giornalismo quindi insomma mi iscrissi all'università a sassari mi laurea in pedagogia quindi avevo cambiato un po il modo anche era la mia seconda passione però questa del giornalismo dello scrivere mi piaceva perché a me piace raccontare le storie cioè plasmarle vedere le persone come si muovono e provare a farle camminare magari in maniera diversa quindi romanzare le cose e quindi mi piaceva l'idea di trattare la sinara in maniera diversa se tu noti tu siamo stati insieme quest'anno alla sinara ognuno ha un modo di vedere le cose l'abbiamo visto che con i ragazzi cioè ognuno vede quell'isola in maniera molto diversa cioè qualcuno era curioso dei detenuti qualcun altro degli uccelli qualcun altro dei pesci insomma e allora io ho provato a immaginare ma secondo dei canoni diversi come la vedrebbe l'educatore lo so perché io lo so come la vedo ma come la vede il detenuto e come la vede il poliziotto la lo stesso luogo di carcere ecco allora mi sono immaginato il mio primo libro in effetti è questa storia incredibile di tre persone completamente diverse perché sono un detenuto un detenuto politico brigatista diciamo un educatore e un poliziotto penitenziario allora agente di custodia che arrivano lo stesso giorno e con la stessa nave sull'isola della sinara per motivi diversi alcuni perché sono stati trasferiti da quelle parti e cioè l'educatore e il poliziotto mentre il detenuto viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di fornelli e devo dire che tutti e tre hanno degli sguardi completamente diversi da quell'isola che entrambi poi tutte e tre la odiano sotto alcuni aspetti perché non li fa uscire altre volte la amano quindi c'è questo gioco quindi mi piaceva l'idea di poter raccontare l'ho fatto sempre un po in tutti i libri che io scritto quello di vedere punti di vista diversi di storie che sembrano apparentemente uguali ci fermiamo secondo per la prima pausa pubblicitaria poi torniamo a chiacchierare con te giampaolo non andar via rimaniamo insieme pubblicità sono giancarlo mura e sono orgoglioso di essere titolare dell'unica azienda sarda che produce prefabbricati di questo tipo realizziamo strutture per uffici negozi bar chioschi servizi igienici per impianti sportivi servizi per supporto agli ospedali stabilimenti balneari autonoleggi ci trovate a porto torres in via piga fetta 2 di fronte a bricofer antartide surgelati e vendita al dettaglio e ingrosso di pesce carne verdura dolci e pizze antartide surgelati perché vengo da antartide surgelati perché qua si trova carne pesce e pizza a sassari via baronia 13 vi aspettiamo fatico colare da uno staff di professionisti gm style parrucchieri prima classe uomo don a sassari via enrico costa 70 info 0 7 9 2 0 0 81 101 vi aspettiamo bar snack bar il corsaro dalla colazione all'aperitivo con ottimi stuzzichini fernanda vi aspetta tutti i giorni in via 10 ad alguero auto ricambi mameli ricambi auto lamierati accessori nazionali ed esteri antinfortunistica vernici auto industriali e per indirizia attrezzature per officina siamo a porto torres in via sassa di 141 traversa agenzia funebre giuseppe cubusi propone servizi funebri completi professionali e rispettosi del dolore della famiglia del defunto ci trovate ad alguero in viale sardegna 39 telefono 0 7 9 8 93 0 17 eccoci ben rientrati dalla pubblicità sempre in compagnia di giampaolo cassitta qui su talk vision è l'applauso virtuale scatta spontaneo eccolo qua mi sorge la domanda spontanea noi ci siamo conosciuti l'anno scorso nella edizione credo quarta edizione di genera il festival dei giornalisti come ci sei arrivato in quel mondo lì come come ci sei capitato ma no ci sono capitato il primo giornalistico è nato insomma perché simone campus mia mi ha coinvolto però mi ha coinvolto molto di più la seconda parte cioè che poi era la prima l'anno scorso quest'anno già la seconda edizione di genera festival cioè la storia dedicata ai giovani e ai ragazzi io dal 2016 mi sono occupato di minori come appunto dicevo come dirigente dei centri giustizia minorile e ho girato un po l'italia perché ho diretto il centro di torino di genova di bologna di firenze di ancona e di perugia e lì è quello di cagliari e qui mi sono accorto che le persone cioè i ragazzi sono persone curiose vogliono vogliono vedere le cose e vogliono essere accompagnati a vedere le cose e se le cose le le presentiamo in un certo modo si incuriosiscono e si innamorano anche dei passaggi quindi l'idea genera festival era questa più o meno se ti ricordi in quei giorni era stato deciso che i ragazzi venissero con noi alla sinara e io avrei raccontato alcune storie piccole storie che erano accadute in quei luoghi quindi far vedere dal vivo i luoghi del romanzo dei romanzi che che io ho scritto insomma quindi far capire che lì c'erano stati falcone borsellino infatti siamo andati poi in foresteria e lì li ha colpiti moltissimo questa cosa di vivere questo attimo che per loro era un'icona insomma era solo quasi leggenda questa storia della di falcone borsellino ma anche quando abbiamo parlato del del novantenne che che viveva nel faro e che lavorava nel faro e anche quando abbiamo raccontato di altri detenuti questo significa che i giovani sono meglio di noi secondo me hanno solo l'esigenza di costruire di voler costruire un qualcosa e a volte gli manca gli manca il punto di partenza ecco mi sembra che con quella visita alla sinara che è durata pochissimo ovviamente però li abbiamo incuriositi alcuni sono proprio sono rimasti molto contenti infatti il giorno successivo ne hanno parlato moltissimo di questa di questa esperienza che per loro era molto forte molto emotivamente molto accattivante anche facciamo così allora dal momento che ci abbiamo il contributo lo riviviamo insieme tutto intero ok poi ritorniamo per mandare il secondo blocco pubblicitario vediamoci questo bel contributo realizzato alla sinara con i ragazzi della scuola guardare il mondo dalla parte delle radici forse non è facile però ci dobbiamo provare e infatti siamo alla sinara per fare un piccolo esperimento con i ragazzi di genera press che hanno scelto un e curiosissimo hanno scelto loro democraticamente e si chiameranno generini un po come i girini che diventeranno grandi questo passaggio alla sinara è un passaggio importante perché le radici qui ci sono ce ne sono tante addirittura dal neolitico non torneremo così indietro ma cominceremo il nostro viaggio partendo appunto con una intervista due parole con il presidente del parco della sinara che è il custode attuale dal 1997 del parco innanzitutto quando voi farete la visita oggi avrete modo di incontrare delle persone che lavorano alcuni l'avete già mi stanno accompagnando perché paola una non nostro educatore una nostra guida e quindi loro diciamo vi racconteranno proprio in diretta le risorse naturali qua la sinara si aggiunge questo ulteriore questo ulteriore pensiero che è legata appunto a mantenere tutta questa magia che voi spero avrete modo di vedere cioè prendere la sinara così speciale no in realtà proprio di speciale speciale che cosa c'è è bella questa domanda è molto molto interessante allora il fatto che sia un'isola speciale quello lo direte voi dopo che fate questa 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 visita tra l'altro con questa attenzione che avete da giovani giovani giornalisti speciali sono soprattutto le le atmosfere inutile stare fare l'elenco delle specie che vivono qua e non vivono nel resto del mondo però ci sono delle specie che vivono solo alla sinara tanto per fare un esempio però e soprattutto sono le atmosfere sono le emozioni che voi potete vivere all'interno di questa di questa isola soprattutto nel periodo non di luglio e non di di agosto che cos'è fornelli meglio che cos'era fornelli era forse un sanatorio sì però è stato anche il carcere più conosciuto d'italia ad un certo punto e forse anche d'europa quello che vogliamo vedere vogliamo capire è che cosa è stato per i detenuti i detenuti politici fino a quando addirittura ci fu una grande rivolta nel 1978 e infine ci arrivarono i mafiosi nel 1992 quindi fornelli è un punto dove le nostre radici anche le nostre radici storiche e politiche sono cresciute le anche con insieme alle nostre coscienze abbiamo imparato a capire l'importanza e la forza dello stato dalle radici si arriva a capire che cosa si genera generare bellezza generare ricerca generare passione vedremo un posto molto incredibile che è tumbarino una diramazione molto piccola dove prima ospitava i sex offender i detenuti che si erano macchiati dei pessimi reati oggi abbiamo avuto modo di trovare invece una opera diversa insomma perché ci sono delle degli appassionati che inanellano gli uccelli e lo fanno con grande passione ce l'abbiamo visto con come in quale con quali motivazioni e ci hanno anche spiegato che se tutto questo serve per salvare e per costruire per generare la salvezza dell'uomo siamo arrivati a strumenti di meno di un grammo su uccelli di 25 26 grammi ma ancora questi piccoli si sta testando degli strumenti ancora più piccoli tempo pochi anni però avremo in tempo reale la localizzazione di questi animali a cala reale oggi prima c'era il ministero della sanità oggi invece c'è un'altra realtà una realtà bellissima perché il salvataggio delle tartarughe quindi qui c'è la nostra agnese che è stata salvata nel marzo del 2023 oggi vive in una vasca di danno da mangiare ma a settembre sarà liberata in mare è una careta careta quindi una delle tartarughe più importanti del mediterraneo e quindi abbiamo scoperto come si genera anche qui bellezza e come si genera anche la vita attraverso il salvataggio degli animali buongiorno a tutti mi presento e vi do il benvenuto io sono Michela e ho la fortuna di lavorare qui al centro recupero animali marini dell'isola della sinara la struttura che vedete alle vostre spalle è la struttura gialla è l'osservatorio del mare ed è la struttura nella quale l'associazione crama si occupa della gestione della conservazione della fauna marina all'interno del parco nazionale della sinara quindi all'interno della struttura vengono ricoverati degli esemplari di tartaruga marina che vengono trovate in difficoltà ma vengono anche svolte tutte quelle attività che riguardano l'educazione e la sensibilizzazione ambientale all'interno del centro questa attività la svolgiamo ovviamente in maniera sostanziale durante l'estate quindi con tutte le persone che hanno la possibilità di venirci a trovare ma durante tutto l'anno in particolare durante la primavera abbiamo anche la fortuna di ospitare tantissime scolaresche che hanno la possibilità di fare sia delle attività sia delle visite guidate all'interno del centro di recupero il nostro viaggio finisce in un carcere così come ce ne erano sette abbiamo avuto la possibilità di vederne almeno uno perché gli altri sono in condizioni un po' difficili Cala d'Oliva è il paesello che ospita sopra la diramazione cosiddetta centrale è quella che è stata restaurata dove ci sono delle celle esterne che sono state visitate e dove c'è un piccolo museo della memoria e sulla parte sinistra delle cellette dove sono state rifatte insomma in maniera come viveva il detenuto io credo che questo sia stato un viaggio della memoria molto importante per i nostri generini e abbiamo fatto un passaggio molto importante siamo partiti dalle radici e siamo arrivati alla costruzione di qualcosa di molto interessante che oggi è il parco nazionale della Sinara se quel parco c'è è perché ci sono state delle persone che sono riuscite a salvarle questo sarebbe la cosa più bella e questo sarebbe il segnale che i generini vogliono dare a tutti beh meraviglioso devo dire che è stata una cosa un'esperienza veramente anche per me molto toccante molto bello allora mandiamo la pubblicità poi ci rincontriamo per il terzo e ultimo blocco pubblicità di giorno caffetteria passeggeria e pranzi veloci di sera aperitivi e apericene dal 1964 la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata bar cristallo piazza 20 settembre porto torre ristorante pizzeria piazza garibaldi vi aspettiamo per farvi gustare i nostri fabolosi piatti siamo a porto torres in piazza garibaldi ristorante tavola calda anfora primo secondo contorno e bevanda a soli 12 euro ci trovate a sassari in via l'italia 50 vi aspettiamo pizzarte oltre 40 pizze d'asporto cotte rigorosamente con forno a legna inoltre una vasta scelta di panini si effettuano consegne a domicilio ci trovate a porto torres in via sassari 85 info 380 377 0080 pizzarte vi aspettiamo pasticceria tarragona torte per ogni avvenimento matrimoni ricorrenze importanti compleanni battesimi caffetteria pasticceria tarragona e ad alghero in via 20 settembre 41 festeggia con noi i tuoi momenti più importanti ti aspettiamo amici ben rientrati dalla pubblicità ci incontriamo ancora una volta con giampaolo cassitta giornalista scrittore nonché educatore del carcere della sinara ancora buon pomeriggio ritrovato per chi si fosse messo l'ascolto con noi in questo momento di talk vision allora cosa possiamo raccontare ancora abbiamo parlato di di quanti libri quanti libri hai scritto fino adesso 10 mamma mia tantissimi un lavoro è un lavoro impegnativissimo ecco ma che cosa quando si creano queste opere no sul cartaceo poi qual è l'ambizione di chi le fa di che perché un libro è un po come un figlio no si partorisce un'opera personale quando si viene quando viene realizzato poi l'iter qual è di questa opera intanto bisogna capire bisogna saper scrivere nel senso che bisogna amare io scrivo le cose che mi piacciono quindi e che conosco quindi per me è risultato facile quando sono usciti i primi due libri della sinara tutti mi dicevano eh vabbè la comfort zone cioè tu sai benissimo che conosci questa zona questa cosa insomma ne sai parlare e non sei un scrittore sei solo un narratore di storie che a me piace molto come come idea il terzo libro invece spiazzo tutti perché il giorno di moro parlava di tutta altra cosa era addirittura un thriller che partiva da un presupposto anche lì da un'idea concettuale io il 9 maggio del 78 viene ucciso al domoro a roma e quindi tutti ci fossilizziamo ci ci accettiamo questa accettiamo in senso negativo questa storia e parliamo solo di quello è però mi immagino che il 9 maggio del 78 accada qualcos'altro e accade un omicidio a roma un omicidio di un sardo che uccide ahimè la moglie e la figlia e quindi viene condannato all'argastolo molto sbrigativamente dopo 30 anni quella quella storia riaffiora per colpa di un magistrato di sorveglianza che è un testardo e che prova a analizzare le cose insieme a un suo amico che era finito in carcere quindi non si capisce forse per motivi politici e quindi c'è tutto questo passaggio e si scoprirà una incredibile verità quindi dal terzo mi sono innamorato un po del personaggio è inventato questo magistrato di sorveglianza che si chiama claudio marcedue che ha campato per tre libri i tre libri successivi ci sono state altre altre indagini una sulla strage di bologna e l'altra su un delitto del 46 accaduto in un paesino della della sardegna ecco questa è stata anche lì però bianone te va beh ma la tua comfort zone anche quella perché comunque anche tutto conosci di giustizia magistrato non riesce a fare altre cose e quindi mi sono inventato un altro mondo un paese che si chiama rocca buiedda negli anni 50 dove c'è la storia della sparizione della statua di santa rita perché qualcuno un papa fa un editto contro il giorno di santa rita non si può più fare il 22 maggio si rimanda a settembre il paese insorge rapiscono la statua insomma è una commedia una butata all'italiana molto simpatica dove c'è una pasticcera molto ovviamente che ritornerà nel mio prossimo libro che dovrebbe uscire nel 2024 e troveremo la mitica pasticcera che va al festival di sanremo perché anche qui ecco il discorso della musica non abbiamo citato perché io sono un grande amante della musica fatto radio e continua a farla e quindi questa volta la nostra pasticcera andrà a donna matilde andrà sanremo nel 1958 dove trionfa volare di come modugno quindi giochiamo su queste cose giochiamo anche sui ricordi sì ma quando la domanda però la mia era un'altra quando tu pensi di realizzare un'opera come un libro come quella di un libro e viene messo in commercio viene come come arriva poi all'utente finale in quale maniera lo promuovi in quale maniera lo fai sapere che che sono che hai questi figli nuovi da sì certo beh tutte le di tutti i social ormai allora intanto io pubblicato con tre editori diversi finora tutti uno il primo e frilli che un editore di genova che ha una tiratura nazionale gli altri arcadia che ha comunque una tiratura nazionale e poi anche con con dages che ha una tiratura regionale ma lì feci soltanto un saggio una cosa molto complicata sulla storia di un sequestro di persona quindi insomma molto molto legata al mio lavoro gli altri vanno tutti tiratura nazionale i primi due libri sono andati benissimo nel senso che hanno venduto e continuano a vendere perché sono dei long seller più o meno abbiamo venduto 10.000 copie dei primi due quindi insomma sono dei piccoli successi e niente poi ci sono le presentazioni ho fatto delle presentazioni un po in tutta italia sono stato anche alla fila del libro a torino ci si lavora su facebook su instagram insomma le cose che fanno i giovani anche noi anziani proviamo a farle insomma in qualche maniera c'ho anche il sito quindi nel mio sito trovate tutti i miei articoli che appaiono regolarmente dal 2014 sulla nuova sardegna almeno tre quattro articoli al mese sono degli editoriali che sono raccolti tutti nel mio sito giampaolocassita.it quindi trovate tutto trovate anche i libri e tutte le foto delle presentazioni bene siamo a conclusione di questo nostro incontro giampaolo quindi diamoci un appuntamento futuro che cosa accadrà nelle prossime i prossimi 50 anni di vita quindi quali sono i programmi che abbiamo nel prossimo calendario a butto come come nanni morita nanni morita è nato il 19 agosto come sono nato io che abbiamo la stessa data di nascita a me piace l'idea che quando gli fanno le domande che lui che cosa vuol fare eccetera lui dice un musical per spostare il discorso che è un grande sogno quello di fare il musico perché no e quindi caro chicco ti dico faremo un musical ci vedremo ebbe pensato di fare una sceneggiatura per un film un cortometraggio una cosa che possa essere su pellicola tra virgolette c'è c'è un cortometraggio dal tratto da una mia storia che si chiama sinuara tratto una storia molto simpatica di un parrucchiere per signora il titolo del racconto e parrucchiere per signora dove è stato tratto il libro e il racconto che ha vinto anche dei premi è un corto di un ragazzo sardo molto bello nella fotografia e del racconta la storia di un parrucchiere di un detenuto parrucchiere per signora che ottiene la semilibertà e le donne si lamentano che non avranno più le parelle non avranno più il parrucchiere in carcere quindi una delle cose del genere ho scritto anche un'altra sceneggiatura per solinas non andò molto bene si chiama l'ho scritta insieme a un altro a un mio carissimo amico che è stato l'aiuto regista di acab dovremmo rivederla una storia un po incredibile insomma sempre basata in carcere chissà per chissà magari farò qualche cosa gian paolo ti ringrazio tantissimo per esserti così raccontato brevemente in questa in questa mezz'ora e in questo talk video ma sicuramente avremo altre occasioni per chiacchierare insieme quindi per quelli che sono stati rimasti un po colpi colpiti da questo racconto da questi libri da queste anticipazioni possono andare a raccogliere più informazioni nel sito di giampaolo cassita giusto si si già posti da punto it oppure comprare oppure andare a comprarlo in libreria di qualche titolo no ricordiamo qualche qualche lì qualche titolo prima di andarci il titolo è c'era una volta la sinara che una storia fantastica di un uomo che ancora vivo che ha 90 anni che ha vissuto tutta la sua vita la sinara è lì da farmi il libro da farmi vedere eccolo eccolo fammelo vedere eccolo qua quindi quando andate in libreria comprate questo libro c'era una volta la sinara che bello grazie grazie di cuore per averti averci raccontato un po della tua antologia della tua storia e che dire ringrazio anche voi che siete stati con noi in compagnia di talk vision e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata con un nuovo personaggio o una nuova persona ciao ciao paolo e ciao a voi chi ci avete ascoltato ciao a voi grazie ciao 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 ciao